Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi siamo qua per vedere che cosa serve per farsi il primo studio di registrazione in casa nostra, cioè l'ABC per iniziare a registrare. Allora, come abbiamo detto, serve la scheda audio, che è questa scatoletta, che serve per poter collegare tutte le cose al computer ed essere riconosciute per poter registrare. Poi abbiamo la cuffia che ci servirà per ascoltare la nostra registrazione e naturalmente il microfono non può mancare, che è quella parte che ci consente di poter realmente registrare. Quindi in una confezione di questo tipo, ad esempio questa è una Scarlett 2.2 Studio, dove nella confezione viene appunto venduta la possibilità già della scheda audio, microfono e cuffia. Questo è veramente l'ABC per poter iniziare a registrare. Naturalmente consigliamo anche l'acquisto di un'asta microfonica per poter regolare l'altezza del microfono, eventualmente un filtro antipop che serve per eliminare alcuni difetti di pronuncia che viene messo davanti al microfono, quindi interfacciato tra la mia bocca e il microfono ed eventualmente ci sarà anche la possibilità, proprio per i più pignoli, di poter usare anche uno schermo antiriflesso, che è una specie di gabbietta che isola dall'esterno per fare una registrazione molto più pulita e accurata, come negli studi professionali di registrazione. Quindi vi riassumo, un kit formato da cuffia, scheda audio e microfono, un'asta microfonica, filtro antipop, schermo antiriflesso, sarà il minimo e indispensabile per iniziare a fare una registrazione attraverso il proprio computer con dei risultati davvero straordinari. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi invito naturalmente qui da Borsare Strumenti Musicali per venire a scegliere i vostri prodotti anche perché questo è un esempio, però noi possiamo sempre comprare una scheda audio, quella che ci piace di più, una cuffia, quella che ci piace di più e il microfono, quello che fa meglio alla nostra voce per le caratteristiche migliori. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi invito naturalmente a iscrivervi al nostro canale YouTube e vi aspetto qua da Borsare Strumenti Musicali e Rotondatori a Bologna. Ciao!